un bel ritrovato a tutti sono ospite di Antonino Tamese c'è Antonino al mio fianco vuol dire che io mi trovo in auto standard esattamente in corso Vercelli 429 a Torino a parlare naturalmente di DR e di grandi novità buongiorno sono e buongiorno a te buongiorno agli amici che ci ascoltano da casa e ben arrivati in corso Vercelli 429 in casa di auto standard e naturalmente Evo DR DR 6.0 vettura spettacolare per quello che offre a cominciare da cosa a cominciare dal fatto che DR non smette mai di stupirci non ci dà il tempo di presentare un'autovettura che ne arriva un'altra ancora con caratteristiche migliori oggi vorrei focalizzare l'attenzione di voi amici sull'ultima arrivata di casa DR che è la 6.0 un'autovettura veramente spettacolare dalle caratteristiche tecniche di accessori veramente sorprendenti perché le vendite dei primi giorni di esposizione in salone da solo sono state oltre alle più rose e aspettative e queste da solo ci fanno immaginare il percorso della 6.0 compreso casa madre che è la DR. Bene focalizziamo oggi l'attenzione se Enrico ci dà una mano d'aiuto nell'inquadrare questa autovettura e vedere con un prezzo veramente non appetibile ma di più cosa ci offre la 6.0 stiamo parlando di un Voyager SUV e per non parlare l'inglese parliamo l'italiano perché DR è un'azienda italiana un SUV da grandi viaggi da dimensioni di 4 metri e 50 con una calandra molto ampia che impreziosisce tutto il davanti dell'autovettura compreso il gruppo fari a led iniziamo dalla motorizzazione questa autovettura monta un motore 1.5 turbo sviluppando 154 cavalli monta un cambio automatico CVT in nove rapporti di marcia prima di salire a bordo di questa autovettura e vedere tutte le caratteristiche dall'interno volevo far notare agli amici a casa che questa autovettura ha veramente una chicca perché ha l'avviamento remoto che significa l'avviamento automatico di questa autovettura in totale sicurezza nel senso che da distanza premendo il pulsante del vostro telecomando l'autovettura si mette in moto da sola e quindi avendo un climatizzatore impostato sia in estate per il raffreddamento sia in inferno per il riscaldamento l'autovettura la troverete pronta in totale sicurezza perché l'autovettura rimane chiusa ebbene sì io salgo a bordo e devo dire che ci salgo con grande piacere perché fa molto caldo oggi e quindi trovo la vettura climatizzata proprio al giusto ecco a puntino a puntino per per provarla e per apprezzarla certamente sonia iniziamo dagli interni interni in ecopelle cruscotto tutto rivoluzionato con fodere foderato in pelle sedili regolabili elettricamente compreso di lombare e quindi anche riscaldabili specchietti esterni ribaltabili regolabili elettricamente e riscaldabili questa plancia veramente impreziosita da due touchscreen uno da utilizzare il climatizzatore e l'altro da un autoradio touchscreen da 12 pollici con sensori di parcheggio anteriori posteriori laterali e a 360 gradi e altra chicca di questa autovettura è quella che possiamo configurare in 3d la posizione da fermo se dobbiamo fare manovra lo vedi da come configuriamo quando l'autovettura è ferma tetto totalmente panoramico e apribile elettricamente un'autovettura veramente spettacolare apertura del portellone automatico con un vano bagaglio veramente capiente sedili posteriore sdoppiabili e abbattibili una vettura spettacolare su tutti i fronti più che full come avete visto super accessoriata ma quanto costa costa veramente poco perché i contenuti di questa autovettura sono almeno di due segmenti superiori questa autovettura così come la vedete compresa di gpl di metallizzato la portate a casa a 29 e 9 bene venite a scoprirla prenotate il vostro test drive ma venite a scoprire tutta la gamma dr qui in auto standard naturalmente ringrazio antonino tamé grazie a voi per l'ascolto e vi dico che auto standard esiste dal 1976 alla prossima io ringrazio te sonia un saluto agli amici che ci guardano da casa e ripeto ancora l'invito a venirci a trovare venire a fare test drive toccare con mano le caratteristiche e la preziosità delle autovetture che vi presentiamo